Musica Una lunga rassegna da luglio a settembre tutta dedicata all'organo. Dopo ben una trentina di appuntamenti, la ventunesima edizione di Organi Storici in Cadore si avvia alle battute conclusive. Sabato 30 agosto, la chiesa parrocchiale di Selva di Cadore ospita il giovane organista veneziano Nicolò Sari, che suonerà un zavarise di fine Settecento. Venerdì 5 settembre sarà la volta di Ivan Furlanis a Valle, frazione di San Pietro di Cadore, dove la chiesa di San Lorenzo dispone di un Armonium Manborg del 1957. La manifestazione si concluderà domenica 7 settembre nella chiesa della Santissima Trinità a Ospitale di Cadore. L'organo Pugina del 1939 verrà suonato da Gianluigi Spaziani. Il programma prevede anche arie per mezzo soprano, interpretate dalla cantante lituana Marta Lucosiute. L'ingresso è libero. Il violista più famoso al mondo, il russo Yuri Bashmet, è il protagonista del nuovo festival sulle vie del Prosecco, ovvero 5 appuntamenti dal 25 al 31 agosto, nei luoghi che danno origine al celebre vino spumante italiano. Bashmet, in qualità di direttore artistico, ha concepito un cartellone itinerante che si apre e si chiude a Conegliano, passando per Colle Umberto, per il teatro Lorenzo da Ponte a Serravalle Vittorio Veneto e per la splendida Abbazia di Follina. Accanto a Bashmet e alla sua prestigiosa orchestra i solisti di Mosca, si esibiranno alcuni dei più acclamati concertisti internazionali, come la violoncellista Jing Zhao, il cornista Radovan Vlatkovic, il violinista Vadim Repin e la pianista Irene Veneziano, semifinalista al blasonato concorso Chopin di Varsavia. E questa prima edizione del Festival riserva anche una particolare attenzione alla coralità italiana. Tra un concerto e l'altro è in programma una masterclass tenuta dalle prime parti dei solisti di Mosca, gratuita per le scuole di musica locali. Per informazioni, chiamare il numero verde 800 910 636. La serata finale avrà come ospite Xenia Rappoport, la bellissima attrice russa, Coppa Volpi a Venezia nel 2009. Tutti i concerti iniziano alle ore 21. Finale col botto per la decima edizione di Verona Folk 2014, la rassegna musicale ospitata nel suggestivo scenario del Teatro Romano. Dopo una serie di concerti con artisti importanti e di ambiti diversi, come il più grande fisarmonicista contemporaneo, il francese Richard Galliano o la raffinata cantautrice Suzanne Vega, venerdì 5 settembre si esibiranno Elio e le Storie Tese, impegnati nel loro Never Ending Tour alla Bob Dylan, tanto per intenderci. Un appuntamento che unisce buona musica e divertimento intelligente, un mix di brani storici e pezzi nuovi, dal loro ultimo CD, l'album Bianco. Con questi scanzonati virtuosi però non si sa mai, improvvisazioni, cambi di scaletta, siparietti estemporanei e sorprese sono all'ordine del giorno. Gli spettatori del concerto scaligero avranno di che divertirsi. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.